è molto importante, è molto importante parlarne la riforma del sistema radio televisivo, come sapete è un problema molto serio come sapete sì, c'è stata votata la proposta di legge proposta di legge del ministro Gasparri però se non capite la riforma del ministro Gasparri, la colpa è di mango la riforma del ministro Gasparri 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a Mango Grazie 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 veramente Grazie 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 a tutti